Buongiorno a tutti cari telespettatori di FanoTV, benvenuti alla rassegna stampa di oggi sabato. Fate attenzione ai numeri, 10, 10, 20 e 20, 10, 10, 2020, non so se può interessare a qualcuno, ma comunque per chi vuol giocare, non giocare all'otto, non sto dicendo di giocare all'otto, sto semplicemente pensando così, dando un'occhiata, 10, 10, 2020. Ok, allora cominciando subito a dare uno sguardo invece al santo del giorno, iniziamo la nostra mattinata informativa. Allora oggi è San Cerbonio, siamo in Toscana, allora il sole sorgerà alle 7, 20 e tramonterà alle 18 e 36 minuti e adesso andiamo a vedere il tempo. Siamo sulla prima pagina di Trebi Meteo che titola così in apertura, sabato prime piogge, domenica fronte freddo con maltempo e neve in montagna, prossima settimana perturbata con affronto a fondo artico. C'è anche un tracollo termico, le temperature giù da lunedì, prime gelate a quote basse. La fotografia dell'Italia con questo fronte freddo che dal nord Europa scende e allora nel dettaglio andiamo nella nostra regione e con il bollettino della protezione civile delle Marche diamo uno sguardo al tempo per oggi, domani e dopo domani. Per oggi cielo sereno poco nuvoloso con graduale aumento della copertura nel pomeriggio, temperature lieve aumento nei valori massimi per la giornata di domenica, ecco domani il peggioramento con piogge sparse anche a carattere di rovescio temporale più insistenti al centro-sud nella prima parte della giornata, mentre dal pomeriggio di domani tenderanno ad concentrarsi prevalentemente sul settore pesarese, le temperature in aumento nei valori minimi, in diminuzione invece le temperature massime, mentre per la giornata di lunedì ancora tempo perturbato con temporali e rovesci inizialmente a nord nella provincia di Pesurbino, poi in estensione al resto del territorio. Arriveranno anche le prime nevicate, saranno possibili sulle cime più alte dei Sibillini, poi tempo instabile anche nella parte centrale della prossima settimana. Subito i giornali, cominciamo dal resto del carino edizione di Pesero, a centro pagina la fotonotizia, la regione non ha ancora risolto il nodo delle chiusure dei palasport, dunque gli impianti restano vuoti, ma cresce la rabbia. La rabbia non solo dei tifosi di calcio, ma anche delle società, che ovviamente vengono meno i soldi dei biglietti e di conseguenza c'è il problema del sostentamento. Anche domani i tifosi di calcio, basket, pallavolo, costretti a rimanere fuori da stadi e palazzetti, la desolazione dei dirigenti, perdiamo migliaia di euro. Intanto Acquaroli dice, ne parliamo lunedì. Vaccini anti-influenza, tese record, liste lunghissime per i pazienti non a rischio, anche 100-150 prenotazioni in alcune farmacie e purtroppo ci sono ancora poche dosi. Caduta in Francia, Valentino veglia su di lui, Luca Marini che volo, disarcionato dalla moto ma la caviglia è salva, a Fano rissa il pincio, denunciati sei giovani. Di spalla, virus e proteste, agenzia di viaggio a Pesero, toglieteci almeno la tassa sulla pubblicità. L'elezione del presidente dei commercialisti è guerra tra due liste, due ingegneri creano un cuscino per proteggere i neonati, c'è un'invenzione che trova spazio sul Carlino di questa mattina. Poi a Talacchio il biodegistore divide, già pronto, un comitato per il no. E poi l'esibizionista, sono io, vi prego aiutatemi, l'operaio 25enne che pedinava una ragazza, dice è più forte di me, ho bisogno di un medico. Il Corriere Adriatico, edizione di Pesero, locali coprifuoco a mezzanotte, il sindaco di Urbino firma l'ordinanza sulla chiusura anticipata che entrerà in vigore già da oggi. Più positivi, meno sintomatici, nelle marche scende l'indice di trasmettibilità R con T da 0,99 a 0,91. Tra Ricci e le agenzie di viaggio a Pesero, sgravi fiscali, tensione sotto la sede del Comune e poi la nuova giunta, la deadline fissata lunedì, salvo sorprese. Dunque ci sarà probabilmente la nomina degli assessori prevista appunto per l'inizio della prossima settimana. Pesero broker raggira una pensionata di 50 mila euro, hacker turco ruba l'identità social ad una commerciante con tutti i suoi contatti e poi a Fano truffa dello specchietto preso con i sassi nascosti nelle tasche. Allora partiamo dalla questione come sempre del Covid, facciamo subito, diamo uno sguardo alla situazione nella nostra regione. Intanto la notizia che ci tiene ancora abbastanza tranquilli e sereni, sereni forse è una parola un po' grossa o comunque abbastanza tranquilli, è quella dell'indice R-Conti che scende da 0,99 a 0,91. Il titolo più casi positivi meno sintomatici. Allora l'epidemia continua a diffondersi nelle Marche ma da due giorni la curva dei nuovi contagi ha una pendenza meno ripida. Dopo il picco degli 84 casi di mercoledì e il 66 di giovedì, ieri il bollettino della regione ha registrato 49 casi positivi, però su 1188 tamponi del percorso nuove diagnosi. I ricoverati per Covid sono passati da 39 a 40 ma sono scesi da 5 a 3, praticamente quelli più gravi, quelli che sono in terapia intensiva. E non ci sono stati decessi per il sesto giorno consecutivo. Nonostante l'aumento dei casi delle ultime settimane, la minor presenza di sintomatici fa sì che l'indice di trasmittibilità, cioè R-Conti, stimato nelle Marche sia sceso come abbiamo visto. Poi la cabina di regia ritiene essenziale, questo a livello nazionale, evitare eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati. Ed è obbligatorio adottare con consapevolezza comportamenti individuali rigorosi al fine di limitare il rischio di trasmissione, quindi in qualche modo il distanziamento a tutti i costi. La seconda ondata dell'epidemia nelle Marche colpisce soprattutto a sud, abbiamo visto nel Piceno, anche nei giorni scorsi. Anche se un po' in controtendenza, ieri è stato il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, ad annunciare le prime restrizioni dopo l'obbligo generalizzato di mascherine. Oggi infatti Gambini firmerà per la città di Urbino l'ordinanza per la chiusura dei locali a mezzanotte in tutto il centro storico, temendo che cosa? La movida degli studenti universitari. Chiudere tutto, siamo sul calino nazionale, chiudere tutto non serve. Lo dice Sestili che, restando appunto ad Urbino, è ordinario di farmacologia all'Università di Urbino. E lo vedete in questa fotografia pubblicata sul quotidiano nazionale di questa mattina. Allora, lui ha firmato una petizione che, tra l'altro, è una petizione che stanno firmando un po' in tutto il mondo gli scienziati. E dice appunto il farmacologo, facciamo come la Svezia, bisogna proteggere gli anziani e le persone deboli. Oggi invece si finisce per trascurare i malati cronici. Allora, Alessandro Malpero scrive, gli scienziati di tutto il mondo stanno sottoscrivendo una petizione che deplora le chiusure indiscriminate e raccomanda di proteggere gli anziani e le altre categorie più esposte. Tra gli italiani ad aver firmato il documento, appunto, c'è Piero Sestili. Allora, le misure drastiche prese dai governi, dice Sestili, rispondendo a una domanda, hanno ripercussioni a livello di salute fisica e psichica nella gente. Vengono trascurati i malati di tumore, diabetici e cardiopatici. Si è alterato un equilibrio nella società. Sarebbero utili misure meno stringenti, definite di protezione focalizzata. Poi andiamo avanti. In Svezia si è fatta strada l'idea di favorire una sorta di immunità di regge. Ma potrei fare l'esempio della Germania, dove hanno avuto meno problemi nella gestione dei Covid, un lockdown meno severo che da noi. Io non dico di abbassare la guardia, dice ancora Sestili, il distanziamento funziona. Ma arrivare a multare, a fare la multa a una persona all'aperto, senza mascherina, perché passeggere nel bosco distante 30 metri dagli altri, mi sembra davvero eccessivo. Dobbiamo proteggere, ecco quindi come agire, dobbiamo proteggere prioritariamente quelli che hanno più di 65 anni, che sono magari alle prese con malattie croniche. Penso al settantenne iperteso, diabetico, asmatico, cardiopatico, alludo agli ottantenni infermi. Questi vanno messi al riparo dai contagi senza sé e senza ma. Sotto però c'è anche la questione della quarantena breve. Se ne parla, se ne discute. Adesso attualmente sapete di 14 giorni, quando va bene. Poi spesso si allunga, c'è la questione dei tamponi, delle risposte che finché non si hanno e non ufficializzano il fatto che siete diventati tornati negativi, vi tengono dentro casa. L'isolamento lungo è penalizzante. Quando la carica virale è bassa, è inutile costringere le persone a non uscire. L'immunologa dice che si può pensare di ridurre il periodo di osservazione a casa da 14 giorni a 10 giorni, quindi ridurre di 4 giorni. La stretta di Urbino a mezzanotte scocca il coprifuoco dei locali, titolo del Corriere di questa mattina. Il sindaco più restrittivo del Governo. L'ordinanza è in vigore da oggi. Il provvedimento sulle chiusure è preso dopo gli assembramenti di giovedì sera. Dagli eventi alla Movida, un weekend di controlli. E a proposito di assembramenti, a Sant'Angelo in Vado si discute se sia il caso o meno di fare questa festa del tartufo, questa fiera del tartufo. Il tartufo è una patata bollente. La mostra di Sant'Angelo divide, organizzata dalla precedente amministrazione e poi attuata da quella appena eletta, va annullata oppure no? In ballo c'è l'ipotesi che sia difficile far rispettare le norme sul distanziamento. Il sindaco dice siamo responsabili, però responsabili o meno non è questione di responsabilità. La questione è che Sant'Angelo, che è un bellissimo paese, è molto piccolino. Quindi è inevitabile che quando la gente si riversa tutta in un unico posto così piccolo, questo sarà un problema anche per alcuni mercatini, eccetera, ma comunque di per sé insomma è un po' una roulette russa andare a questi incontri, soprattutto in queste situazioni così. Luzzi dice organizzare un così grande evento mentre tutti li annullano è un rischio per la popolazione. e Luzzi, che è stato appunto sindaco di, ripeto, questo splendido borgo, splendido paese dell'entroterra, ha ragione. Il Covid, come la spagnola, durerà due anni. Lo storico della medicina Cosmacini e la seconda ondata dice la sua virulenza dipenderà dalla nostra reazione. Il vaccino non è scontato. Come nel 1300, la lezione di Boccaccio, come nel 1300 la prima difesa resta l'isolamento, il non fiatarsi l'uno sopra l'altro. E a volte capita, a proposito di fiatarsi l'uno sopra l'altro, perché è un gesto naturale. A volte uno non ci pensa, si avvicina all'altro magari senza mascherina e si parlano a mezzo metro di distanza e non ci si fa caso. Però ecco, il fiatarsi l'uno sopra l'altro invece è deleterio. Mascherine sicure, la guida a mai tenerle sul braccio. Questa adesso è un'altra cosa che scappa fuori oggi. Le mascherine, su come tenerle, su come igienizzarle, su come riutilizzarle, comunque le mascherine da sole non bastano, perché ripeto, è importante ed è fondamentale il distanziamento. Possono però diminuire i contagi solo se accompagnate appunto al distanziamento. Lavatele a 60 gradi. Questi sono i consigli di questa donna. È un consiglio che troverete con queste istruzioni sulla pagina nazionale del resto del Carlino. Ripeto, da qualche giorno sono diventate di nuovo obbligatorie, non solo nei luoghi chiusi, ma anche all'aperto, per strada, nei parchi, insomma in tutta Italia, dove c'è assembramento. Dove c'è assembramento, la mascherina è una forma di protezione dal virus diventata ormai necessaria. Come vanno usati? Allora, intanto non bisogna portarle sul braccio quando uno non le usa. Di solito si mettono sul gomito, si mettono qua sotto, di solito, si appoggiano qui, si infilano qua e si lasciano lì. Pare, stando a quello che si capisce questa mattina, che qui non va bene. Così come non va bene metterla nella borsetta, bisognerebbe prendere quei sacchetti che si usano per il congelatore, per mettere le cose nel congelatore, ecco, piegarle con il verso dell'interno dove si appoggia la bocca, insomma, in questo modo, e poi metterle dentro questo sacchettino di plastica, chiuderlo lì e poi riprenderlo ogni volta che c'è bisogno. Non più di quattro ore al giorno, mezza giornata a dire il vero, quattro ore per i sanitari, parliamo di quelle chirurgiche, non quelle FFP2, di quelle chirurgiche non più di mezza giornata, poi bisognerebbe sostituirle. Ecco, queste un po' sono le indicazioni che troverete sul giornale. Facciamo più di mille tamponi a settimana, il titolo sulla pagina di Urbino del Carlino, piccolo viaggio nel drive test del Sasso, dove arrivano coloro che devono sottoporsi all'esame. Ieri anche un'intera classe proveniente da Fano. Intanto i giardini Raffaello tornano a risplendere. Inaugurato il nuovo allestimento col neopresidente della regione, Francesco Acquaroli, che dice abbiamo tante idee per la città. Per un premio Covid decoroso servono almeno altri 2 milioni di euro. Questo è il calcolo dei sindacati e della RSU. Ora si attende un segnale del nuovo governatore Acquaroli. Intanto Totaro, seconda donazione di plasma, Francesco Totaro, consigliere comunale della Liga, si era subito offerto per effettuare la donazione del suo plasma iperimmune. A proposito della giunta, abbiamo detto la prossima settimana, probabilmente la settimana buona, avremo i nomi degli assessori della squadra di governo che ci governerà per i prossimi 5 anni, però sul Carlino di Ancona, l'edizione di Ancona, c'è questa notizia che vi segnalo questa mattina che riguarda appunto qualche indiscrezione più o meno. Fratelli d'Italia punta su Castelli e Baldelli, Forza Italia assessore su Ancona. La Liga con Carloni, Tisi e un terzo che potrebbe essere Saltamartini, lunedì atteso appunto il varo. Da registrare comunque come Fratelli d'Italia avrebbe fatto le sue scelte e gli assessori sarebbero l'ascolano Guido Castelli e il pesarese Francesco Baldelli, ex sindaco di Pergola. Questo, secondo nome, chiuderebbe la partita a nord della Regione, dove la Lega schiera in giunta Mirko Carloni, che sarà anche vicepresidente della Regione. Rimanendo nel partito di Salvini, sarebbe in rampa di lancio per la provincia di Fermo Daniela Tisi, la quota rosa tanto ricercata, con un curriculum di alto livello, soprattutto in campo culturale. Poi ci sono altre indiscrezioni sul carlino di questa mattina. Torniamo a Pesaro, la cronaca adesso. L'esibizionista, chiedo scusa a quella ragazza, parla il 25enne che ha compiuto atti osceni vicino ad una sedicenne e che ha patteggiato la pena. Lo ha avvicinato ieri fuori dalla stanza dove si è tenuta questa udienza, Roberto Damiani del resto del carlino, e scrive è ancora vestito come l'hanno arrestato con la tuta da lavoro da operaio. Il giudice ha appena accolto la sua richiesta di patteggiamento a sei mesi di reclusione, pena sospesa per atti osceni in luogo pubblico. Praticamente è libero e lui dice ma non è felice di esserlo, sono avvilito, dice lui mi vergogno, ho bisogno di aiuto, da solo non ce la faccio ad uscire da questo incubo del sesso. Tre giorni fa a Montecchio alle 7.30 di mattina questo ragazzo dall'area mite di 25 anni di sesso Corvaro si masturbava in macchina al passaggio di ragazzine che andavano a prendere l'autobus per la scuola. Lui piange, dice non so cosa mi abbia preso, da qualche tempo a questa parte, faccio queste cose vergognose istintivamente. Non vi vado oltre, lascio se volete leggervi questo articolo che mette tanta tristezza, ma era inevitabile, nel senso era comprensibile che dietro ad una situazione come quella che vi abbiamo letto ieri, ieri vi abbiamo dato il racconto, il resoconto di quello che è successo, ma non ci vuole molto a capire che poi dietro a queste storie di cronaca c'è sempre qualcuno che soffre, tanta gente che soffre, ma anche la famiglia della ragazzina che sicuramente avrà passato un brutto momento e questo viene evidenziato anche dal 25enne che dice ancora più volte voglio chiedere scusa a quella ragazza che non conosco e chiedo scusa per la paura che le ho provocato e l'angoscia che avrà avuto. Chiedo scusa ma sono senza forze, ho bisogno che qualcuno mi aiuti veramente e che mi faccia superare questa solitudine. Io spero che qualcuno davvero l'aiuti. Rissa al Pincio invece, trovate tutti, Polizia denuncia sei giovani, siamo a Fano, il Pincio è quello di Fano, ancora sequestri di droga, oltre all'arresto di uno straniero per irregolarità, sorpreso inoltre un truffatore dello specchietto che aveva i sassi praticamente sotto il sedile della macchina, pronti all'uso. Commercialisti, è scontro sul Presidente per eleggere la massima carica dell'ordine, da una parte c'è il Fanese Lucchetti, dall'altra il Pesarese Sallese, duello tra Ottimati e Peones. Cioè, tutto dipenderà da dove si andranno a posizionare i grandi studi commercialisti di Fano e di Pesaro. Tari, far west del diritto, dove il Comune, il consigliere Ilari della Lega, attacca, ignorate le leggi, accertamenti basati sul nulla. La Andreani, la società che sta facendo questi controlli, si è riservata un introito intorno al 18% per ogni cartella incassata. Intanto, famiglie numerose a Fano, la Giunta taglia i costi agli asili, si arriva ad un meno 50% per il secondo figlio e ad un meno 70% per il terzo figlio. Sempre da Fano, però, il Corriere Adriatico, termoscanner a chi entra in Comune, smart working e ingressi contingentati, vivace assemblea dei dipendenti che chiedono di alzare la guardia anti-Covid, prorogare la misura della prenotazione e, per chi ha difficoltà, affiancargli anche i facilitatori. Scuola, rette ridotte per secondo e terzo figlio, Mascarin lavora alle modifiche Isee, agevolazioni dal 50 al 70% al Comune, costerà 100 mila euro. Sulle scogliere di Sassonia, oggi arriva il pontone. Barriere, partono i lavori per il completamento, dunque cominciano i lavori per completare due scogliere di Sassonia. Una volta terminati, anche il tratto più vicino alla diga foranea del porto sarà protetta dall'erosione marina. La pagina 2 di Fano del Corriere, trovato con i sassolini in tasca per il reggiro dello specchietto, verifiche sul territorio della Polizia, quattro minori tra i denunciati per la rissa al Pincio, poi Puscher in fuga con la cocaina, l'inseguimento e poi l'arresto, sono un fanese e un osimano presi dai carabinieri, avevano lanciato la droga dal finestrino. Lavoro, raddoppiati gli incidenti mortali, dal Carlino, numeri tragici in provincia di Pesero dal confronto 2019-2020, primi otto mesi, otto vittime, quattro l'anno scorso, diminuiti gli infortuni e le malattie. Domani è la giornata dedicata alle vittime, Fausto Luzzi dice è stato un anno difficilissimo. Dalla cronaca di Ancona, ma in l'ambulanza pure di notte decolla di nuovo il servizio. Dopo le difficoltà iniziali, i voli entrano dunque a regime con un obiettivo preciso, attivare 55 eli superfici abilitate al volo notturno nelle Marche entro il 2021. Intanto nella fotografia il Vescovo di Ancona spina durante la doppia inaugurazione di ieri all'ospedale di Torrette. Andiamo a vedere adesso invece la questione del biodigestore, questo biodigestore che nessuno vuole. Lo vogliono soltanto le grandi aziende, Marche Multiservizi, la vuole Aset, ma i cittadini giustamente un impianto del genere sotto casa non ci pensano proprio ad averlo, con tutti anche i problemi relativi poi al traffico dei camion avanti e indietro. Insomma, comunque, a Talacchio, dove fino ad ora nessuno aveva affiatato, adesso biodigestore non staremo a guardare, ecco il gruppo di Vallefoglia che è già pronto a creare un comitato intanto per avere accesso a tutte le informazioni che sono utili per capire un po' di più sull'impianto, perché per evitare che insomma questa cosa venga fatta così alla chetichella, come si dice, questo comitato vuol capire di che cosa si parla. E poi la costosa alternativa pesarese svelata dall'equidatore Baioni pronto a vendere l'ex Pica a marche multiservizi costo 12 milioni oltre 15 ettari di terreno l'area in ballo andrà all'asta tra poco più di un mese e l'offerta può partire da 10 milioni di euro. Il digestore questa sarebbe l'alternativa ma ripeto costosa anche perché già solo 12 milioni per la terra il digestore nel terreno della Pica a Borgo Santa Maria si può fare ma per acquistare quei 15 ettari servono non meno di 10 milioni di euro lo dice Baioni liquidatore giudiziario dei beni dell'industria Pica Spa il professionista incaricato dal Tribunale di Pesolo di vendere praticamente tutto a partire dai terreni. Il digestore qui non ci sarà questa è un'altra cosa ancora il sindaco di terre rovedesche Sebastianelli anticipa il no irrevocabile ad un impianto privato la questione del biodigestore in ambito provinciale continua dunque a tenere banco dopo essere sfumate le ipotesi di Fano e di Canavaccio di Urbino ora i siti che vanno per la maggiore sembrano essere Vallefoglia oltre ai meno probabili Pesaro e Monte Labbate il sindaco siamo a Pesaro qui queste sono le fotografie scattate sotto il comune dove ieri mattina si sono dati appuntamento i gestori i responsabili i proprietari delle agenzie di viaggio pesaresi sindaco ha esnobbato le nostre agenzie non è una menzogna no dice lui dice Ricci è una menzogna tensione ieri mattina sotto il comune tra il portavoce dei titolari e Ricci la protesta raggiunge toni accesi poi la tregua l'incontro è fissato per lunedì la richiesta è quella di agevolazioni e riduzioni delle tasse come per le altre categorie la BCC finanza un'attrezzatura per il servizio di endoscopia si tratta di un insufflatore di CO2 la gratitudine di Bonci il sindaco di Fossombrone per il potenziamento dell'ospedale e ancora sempre dai quotidiani a Carpegna esercitazione militare con 200 paracadutisti militari del 183 Nembo con la missione Street Forge hanno testato l'uso di mortai da 120 millimetri e poi le trasfusioni a Pergola trasfusioni di ferro all'ospedale pergolese l'ambulatorio è perfettamente in regola l'area vasta replica alla CISL mentre da Senigallia Olivetti vara la giunta e lui si tiene pure il commercio il primo cittadino tiene anche il turismo e la polizia locale travolto con la bicicletta sempre a Senigallia da un'auto un anziano è adesso grave in ospedale si tratta di un ciclista di 80 anni che è rimasto ferito e che è stato portato a Torrette di Ancona ed è stato investito da un trentenne sanigalliese poi a Trecastelli abbiamo degli ascoltatori che ci seguono tutte le mattine anche da là li salutiamo Trecastelli cento anni di Nazareno lo vedete in questa fotografia insieme al parroco insieme al sindaco il parroco Don Paolo Campolucci e il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli e poi dalla la Vallefoglia municipale pattuglie non stop fino alle 7 e un quarto il servizio esteso anche nelle ore notturne scatta il presidio dall'una in poi il presidente dell'Unione dice più efficace lavorando insieme ora gli impianti sportivi abbiamo detto restano chiusi resta il pasticciaccio anche domani dunque i tifosi sono fuori manca ancora il famoso rinnovo dell'ordinanza che consentiva il mini accesso quindi qualche centinaio di persone stadi e palazzetti restano chiusi la desolazione dei dirigenti Brunetti della Vigile Alfano dice abbiamo già perso 25 mila euro di mancati ingressi una brutta vis anche Galderisi l'allenatore chiede più forza il K.O. di Ravenna tra Iella e tra sfortuna e ingenuità ma un punto in tre partite poca cosa il mister dice soprattutto nel primo tempo ho visto che non mi sono cose che non mi sono piaciute e poi ancora triste un derby senza tifosi dice Traini del Fano Calcio dell'Alma Juventus Fano che pensa al match di domani con la Samba sarebbe stato davvero uno spettacolo però purtroppo alla squadra non posso rimproverare nulla spero che i ragazzi ora tengano diciamo il livello fisico mentre sul moto mondiale Marini cade a Le Mans e finisce in ospedale forse non c'è frattura ma che spavento per il leader della moto 2 e facciamo gli auguri ovviamente a Luca Marini noi ci fermiamo qua ci diamo appuntamento l'unica mattina come sempre puntuale alle 7 vi aspetto stasera c'è 7 per occhio non mi rimane altro che augurarvi un buon fine settimana e buon proseguimento con i programmi di Fano TV arrivederci a a Autore dei sovrapposti